Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi non vi parlerò di Harry Potter o di Unboxing ma oggi parleremo di un argomento nuovo e fresco che sta spopolando. Si tratta delle chiavi dei Disney Store. Queste chiavi ormai sono ovunque, si vedono su Instagram, su Facebook, diversi gruppi, su Ebay, ovunque e mi avete chiesto in tanti come fare per ottenerle, quanto costano, dove vengono distribuite, mille domande e quindi finalmente ho trovato il tempo per fare un video dove spiegarvi tutto per bene o almeno ci proverò. Le chiavi Disney. Queste chiavi sono delle piccole chiavi in plastica che vengono regalate, non sono in vendita, ai clienti del Disney Store. E la prima che voglio mostrarvi è questa qui, si tratta della chiave di apertura dei Disney Store. Questa è la chiave classica, quella che viene data in Italia e anche in altri paesi d'Europa e si tratta appunto di una chiave verde con un cartellino bianco e questa chiave ha stampate sopra delle foglioline. Bene, questa chiave come si fa per ottenerla? Bisogna essere i primi della fila al momento dell'apertura del Disney Store. Ad esempio a Milano o a Roma, comunque Disney Store nelle grandi città, fanno l'apertura. Ogni mattina viene preso il primo della fila. Ragazzi, i bambini hanno la precedenza, quindi se io vado al Disney Store di Milano, mi metto dietro la porta alle 8 del mattino, sono il primo, e alle 10 meno un minuto si presenta una mamma con un bambino, in quel caso il bambino prende il mio posto. Quindi per gli adulti, per chi le vuole collezionare e non ha un bambino, allora in quel caso diventa abbastanza difficile prenderla, ma non impossibile, perché durante la settimana capita sempre il giorno nel quale non si presenti magari nessun bambino. In ogni caso io l'ho ottenuta semplicemente comprandola. Si trova abbastanza facilmente questa qui nei gruppi Facebook o su eBay e il prezzo giusto è attorno ai 25-30 euro. Questa in linea di massima è la chiave più semplice da ottenere al momento. Poi, andiamo avanti. In altri Disney Store molto speciali vengono regalate delle chiavi diverse da questa. Io non ne ho neanche una e costano tantissimo su eBay o comunque sui gruppi e per averle bisogna sempre essere i primi della fila al momento dell'apertura e ne esiste una particolare con delle foglioline che in teoria veniva data da Harrods, quindi a Londra, ma adesso non so esattamente se viene data ancora quella o un altro modello. Poi ce n'è un'altra che viene data all'I Champs-Élysées, al Disney Store di Parigi e un'altra ancora differente viene data invece al Disney Store di Times Square, quindi a New York. Al momento queste sono le varianti di apertura, ma questa verde è quella europea classica, standard e se non sbaglio viene data anche in America, in molti Disney Store. L'unica eccezione è quella di New York. Ragazzi, detto questo passiamo adesso a quelle che secondo me sono più interessanti rispetto a queste qui dell'apertura. Cosa accade lo scorso anno? Che Disney comincia a farsi due conti e dice bene, se si sta creando tutto questo interesse verso una chiave semplicissima che diamo all'apertura ai bambini ogni mattina, perché non sfruttare questa cosa a nostro favore e creare un collezionismo e degli eventi legati a queste chiavi? Ebbene, ecco che lo scorso inverno hanno cominciato col primo festeggiamento che si trattava del novantesimo anniversario di Mickey Mouse, di Topolino. Quel giorno, con qualsiasi acquisto, veniva regalata la chiave ai primi clienti della prima ora di apertura in tutti i Disney Store. Io non le collezionavo ancora, non sapevo neanche dell'esistenza di queste chiavi e quindi non l'avevo, non l'ho presa, ma sono riuscito a recuperarla. Questa è una delle chiavi che al momento hanno il valore più alto, perché appunto è stata la prima, erano meno diffuse, meno gente è andata a prenderla e questa chiave qui al momento si aggira attorno ai 50 euro, se non qualcosina in più. È una chiave molto bella, molto semplice, richiama i colori di Topolino, abbiamo il giallo, il rosso, le testoline con le orecchie di Topolino e l'immancabile di Disney, qui nell'impugnatura. È il castello che invece funge proprio da chiave. È molto molto carina, semplice, e questa qui è quella del novantesimo anniversario di Topolino. Successivamente hanno cominciato a sfruttare anche altri eventi, come le uscite dei film, dei film quelli più attesi. Infatti la seconda chiave è stata quella di Aladin. Ed eccola qui, questa me l'ha presa un amico al Disney Store di Milano, perché io non potevo andare in quello di Catania, e mi ha preso questa chiave dedicata appunto al film live action di Aladin. In questo caso la chiave è dorata, è lilla violetta ed ha la lampada del genio stampata al centro. Questa al momento è anche abbastanza difficile da reperire, ma meno rispetto a quella di Topolino. Capirete bene che più è vecchia la chiave, più è difficile ottenerla. I talloncini, ragazzi, sono molto importanti, perché aumentano o comunque mantengono il valore della chiave integro, perché in tanti vendono la chiave senza il talloncino commemorativo, e occhio perché il valore scende parecchio della singola chiave. Quindi se volete acquistarle, accertatevi che vi venga dato anche il talloncino apposito. Detto questo, ragazzi, ecco che Disney comincia però a cambiare le regole, perché per avere questa chiave adesso era stata imposta una regola differente rispetto a quella di Topolino. Per avere questa chiave bisognava spendere 15 euro di prodotti Aladin nei Disney Store durante la prima ora di apertura del giorno specifico che era stato comunicato. Io, ad esempio, in questo caso ho acquistato una tazza del genio della lampada e, se non sbaglio, nient'altro perché costava circa 16 euro, ed ho ottenuto la mia chiave. Bene, la chiave successiva, invece, è stata quella dedicata a Paperino. Eccola qui, gli 85 anni. In questo caso, come per quella di Topolino, la chiave richiama i colori del personaggio, quindi bianco, blu e giallo. Abbiamo il classico fiocchetto di Paperino con il suo bavaglio, richiama proprio i suoi vestiti, e questa volta sono cambiate nuovamente le regole. In questo caso bisognava spendere 15 euro in qualsiasi tipo di prodotto. Quindi, non per forza roba legata a Paperino, ma qualsiasi cosa. Questa chiave è abbastanza semplice da reperire. Questa qui, diciamo che con 20-25 euro dovreste calarvela. Chiave successiva, siamo arrivati alla quinta chiave. Eccola qui, è quella di Toy Story. Questa è stata rilasciata dopo l'uscita del film nei cinema italiani. In America è stata rilasciata con un po' di anticipo. E questa è una delle chiavi più ricercate, più particolari e più apprezzate, visto che è totalmente stampata. Anche la D è stampata. Abbiamo qui la fantasia degli abiti di Woody. E poi abbiamo qui, anziché il castello, abbiamo la lampada e la palla di Pixar. Quindi abbiamo anche una variante in questo senso. È una delle chiavi, secondo me, più belle in assoluto. E mi piace tantissimo che sia stata dedicata a Toy Story 4. E questa chiave qui veniva regalata sempre nei Disney Store durante la prima ora di apertura, spendendo sempre almeno 15 euro però in prodotti Toy Story. Ma non solo, perché visto il grande successo, Disney ha deciso di mettere in omaggio anche mille chiavi a livello europeo sul sito Disney Store. Quindi bastava alle 9 in punto acquistare 15 euro di prodotti di Toy Story e nel carrello sul sito sarebbe comparsa in automatico anche la chiave. In tantissimi sono riusciti a prenderla perché sono stati molto veloci. Altri purtroppo non l'hanno presa, non ci sono riusciti, perché semplicemente sono state messe online alle 9 e neanche alle 9.5 erano già esaurite. Erano solamente mille online. Bene, dopo questa chiave le cose si sono calmate e durante l'estate non è successo più granché se non l'uscita di una chiave speciale che è stata rilasciata solo in America ed è questa qui. Questa è una chiave con mini e topolino che è stata rilasciata in occasione del D23 Expo. Si tratta di un grandissimo evento dedicato ai fan Disney che si svolge ogni due anni in America e quest'anno, ad esempio, durante quest'evento è stata presentata la nuova piattaforma di Disney Plus ed è stata venduta, in questo caso all'interno della fiera, dell'evento, è stata venduta questa chiave per poco più di 10 dollari. Io, come faccio ad averla, l'ho acquistata su eBay e nonostante tutto non l'ho pagata neanche tantissimo visto che è arrivata dall'America, le spedizioni, la dogana sono arrivato a pagarla circa 45-50 euro non ricordo esattamente la cifra esatta. La chiave ha la solità di Disney gialla con delle stelline bianche poi, come vi dicevo, mini e topolino è il classico castello Disney in blu. Bene, dopo di ciò, altro periodo di pausa ma in tanti ci aspettavamo che sarebbe arrivata anche la chiave del Re Leone e soprattutto anche a seguito di tutto l'hype che era stato creato attorno al film del Re Leone quindi sembrava scontato che sarebbe stata rilasciata anche una chiave dedicata a questo film e invece sono passati mesi, il film ormai è bello che è andato e non si hanno notizie in merito a questa chiave del Re Leone. Ebbene, ecco che giusto un paio di giorni fa sull'Instagram di Disney Store ecco che arriva la notizia bomba che il 4 ottobre in tutti i Disney Store e i Coin Corner arriverà una nuova chiave inizialmente non è stato rivelato quale sarebbe stata si sapeva solamente il giorno 4 ottobre durante la prima ora di apertura con un acquisto minimo di 15 euro ma non si sapeva il tema. Bene, si è vociferato che si trattasse di una chiave dedicata a Star Wars successivamente si è pensato a Frozen e poi addirittura si è arrivati a pensare anche che si sarebbe trattato di una chiave dedicata a il Re Leone il tanto atteso Re Leone dopo appena qualche ora ecco che Disney rivela tutto si tratta di una chiave dedicata a Frozen visto che il 4 ottobre verrà rilasciato il nuovo merchandise di Frozen allora in quel caso acquistando 15 euro di prodotti Frozen durante la prima ora di apertura del Disney Store si riceverà una chiave solitamente viene rilasciata l'immagine su Instagram mentre questa volta ancora niente c'è solamente la sagoma bianca generica col punto interrogativo io spero si tratti di una chiave magari ad effetto ghiacciato una chiave trasparente in resina qualcosa di particolare perché non sono amante di Frozen non sono nel target di Frozen però naturalmente prenderò la chiave visto che ormai l'ho tutte le altre ma spero almeno che sia una chiave molto molto carina avrei decisamente preferito una chiave dedicata o al Re Leone o magari ancora meglio a Star Wars ma sicuramente ne arriveranno più avanti visto che ormai abbiamo capito l'antifona e tutti gli eventi verranno commemorati con delle chiavi particolari ed è anche un modo che Disney ovviamente ha trovato per portare gente dentro i Disney Store e creare questi eventi dove le persone spendono soldi dove devi spendere almeno 15 euro per avere la tanto agognata chiave quindi ragazzi l'appuntamento più vicino venerdì 4 ottobre all'apertura in tutti i Disney Store d'Italia e anche questa volta verranno messe online circa 1000 chiavi se non sbaglio forse 3000 non ricordo esattamente credo abbiano aumentato un po' il numero online per tutti gli acquisti effettuati sul sito Disney Store quindi preparate il vostro carrello poco prima delle 9 con i prodotti Frozen per almeno 15 euro di importo aggiornate, aggiornate alle 9.01 dovreste già avere la vostra chiave all'interno del carrello fatemi sapere se riuscirete a prenderla se la prenderete nei negozi fisici se conoscevate già queste chiavi se comincerete anche voi questa raccolta io ve lo sconsiglio perché una volta entrate in questo tunnel diventate totalmente schiavi da queste chiavi dal Disney Store e dal doverle reperire assolutamente tutte io tra poco andrò a Londra e potrei effettivamente provare ad andare da Harrods per prendere le chiavi di apertura ma mi sono imposto di non fare pazzia del genere e di rilassarmi e dedicarmi alla città a Harry Potter tutto quello che ho in programma di fare di farvi vedere bene ragazzi spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo sull'argomento fatemi sapere domande qualsiasi cosa sotto nei commenti sono qui per rispondervi ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace commentate condividete il video con i vostri amici attivate la campanella perché il canale dopo la pausa estiva è stato penalizzato fortemente e infatti i miei video stanno facendo davvero poche visualizzazioni non per colpa vostra magari per colpa mia non lo so però molte meno perché vista la mia inattività prolungata durante l'estate il sistema l'algoritmo di YouTube mi ha penalizzato perché non pubblicavo da diverso tempo quindi magari se voleste sostenermi ragazzi mi raccomando condividete il video guardatelo con gli amici fatemi sapere un po' cosa me ne pare comunque anche su Instagram potete seguire anche lì antonio.seria ragazzi credo a questo punto di avervi detto tutto fatemi sapere tutto quello che pensate io vi saluto e vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao